Cioè che lo scrittore voglia darci un messaggio in un momento in cui anche la nostra generazione ha una guerra da combattere, ha una vocazione nazionale da esprimere, da illustrare. È un po' come se ci richiamasse al dovere di credere nell'unità nazionale, di credere in questo Paese e di essere pronti a fare dei sacrifici che ovviamente non sono quelli di un conflitto vero e proprio, ma che sono comunque quelli di una battaglia da combattere perché l'Italia esca dalla crisi, perché l'Italia possa attraverso il ricordo della prima guerra mondiale, della seconda e di altre problematiche non di poco conto che ha dovuto affrontare penso al periodo del fascismo, però abbia in sé il DNA, abbia in sé le caratteristiche per potercela fare, per poter non arretrare di fronte all'essere nazione, all'essere nazione unita e quindi guardare al futuro con una classe dirigente che ha delle responsabilità. Venendo alla domanda di Luca Telese sulle responsabilità della classe dirigente di oggi, è chiaro che ci sono battaglie di carattere internazionale e nazionale. Noi abbiamo una duplice sfida, una sfida nazionale che è quella di non cedere ai populismi, di non fare da cassa di risonanza del disagio sociale forte che c'è nel Paese. Io non penso che il dovere di un politico, di una persona che ha responsabilità di governo sia quello di amplificare il disagio sociale, di strumentalizzarlo o di cedere al populismo. semmai c'è il dovere dell'ascolto, l'umiltà dell'ascolto, ma anche la fatica e la sfida di individuare delle soluzioni al problema dei Paese. E quindi oggi qualche volta la politica sembra ridotta ad una sfida su chi sa comunicare meglio, su chi partecipa ad un numero maggiore di trasmissioni televisive. Io penso che il governo del Paese sia qualcosa di più serio, che abbia bisogno anche del silenzio, che abbia bisogno anche dello studio, che abbia bisogno anche di sfidare l'impopolarità quando si crede in alcune riforme e le si vogliono portare avanti. Non penso che sia simile al grande fratello, a X Factor. E qualche volta la politica subisce un condizionamento e un'influenza eccessiva e negativa da mondi della comunicazione. E quindi, tornando a ciò che deve fare la classe dirigente oggi, è da un lato quello di fare le riforme, di trovare delle soluzioni ai problemi sul tema del lavoro, sul tema della ricetta economica, sul tema che oggi riguarda il disagio sociale, che attraversa ceti sociali differenti, famiglie, imprese, e quindi non trovare alibi per non fare le riforme. Dall'altro lato abbiamo una sfida più grande dell'Italia, che è l'unità dell'Europa, che è il nostro essere tra i Paesi fondatori dell'Europa. E qui credo che dobbiamo avere l'onestà intellettuale di non assumere l'Europa come alibi per non fare, e allo stesso tempo non diventare un soggetto passivo dell'Unione Europea. Quindi io vorrei un nuovo protagonismo italiano in Europa, non per scaricare sull'Europa le responsabilità delle riforme mancate, delle riforme non fatte, non portate a compimento e solo annunciate sui giornali all'interno del Parlamento, e dall'altro lato credo che la sfida sia quella di partecipare a un processo di unificazione vero, concreto, profondo, in cui ci dobbiamo ritrovare come europeisti, non nel senso di semplici difensori del rigore e dell'austerità, non come semplici demagoghi che scaricano appunto sull'Europa anche ciò che non si è riusciti a fare in Italia, ma certamente sapendo che l'Europa è un sogno non ancora realizzato, che oggi l'impopolarità che l'Europa ha va evidentemente riflettuta e va credo motivata dal fatto che l'Europa oggi sembra più quella dei tecnocrati, l'Europa dello spread, l'Europa dei conti pubblici, e non il sogno europeo di un popolarismo, di una capacità di ritrovarsi insieme, con un anelito alla crescita e allo sviluppo dei popoli e delle nazioni. Quindi io penso che la sfida della classe dirigente di oggi sia questa, penso che gli alibi siano finiti e che tutto non possa essere ridotto a chi comunica meglio, a chi la spara più grossa, ma c'è un lavoro profondo da svolgere e rispetto a questo credo che la nuova, la nostra vocazione nazionale, la nostra guerra che dobbiamo combattere è esattamente questa, una guerra di credibilità, una guerra che deve portare l'Italia a rivestire un ruolo da protagonista, così come ai tempi di De Gasperi, di Adenauer, di Spinelli, e non una presenza passiva in Europa e non semplicemente però nemmeno la negazione di quell'Europa. Anche se oggi capisco che i movimenti come Marine Le Pen intercettino un disagio sociale e quindi abbiano un consenso elevato, io credo che si debba non solo raccogliere il consenso, ma anche avere in qualche modo la pretesa di formare gli italiani e quindi in qualche modo spiegare loro che la nostra appartenenza all'Europa è comunque un fatto positivo, anche se c'è ancora molto da cambiare. Grazie a Maria Sella Genmini, a Guido Galperti ovviamente vorrei girare la parola partendo dall'increibile repertorio di sopraffazioni, di violenze legalizzate che Cazzullo propone nei primi due capitoli, cioè la ripressione e la punizione dei soldati italiani, dei fanti, non dei disertori ma anche di persone che normalmente cercavano di esercitare buonsenso, rifiutavano ordini incredibili o sopravvivevano anche ad attacchi immotivati, è una sorta di grande esperimento di massa della Prima Guerra Mondiale, cioè si poteva costringere un intero popolo a obbedire senza batter ciglio, cioè in qualche modo questa sospensione della libertà a me è la cosa che lascia un segno più forte, come è potuto accadere, che cosa era accaduto nella società italiana. Cazzullo racconta ovviamente una galleria di personaggi e racconta il ruolo degli intellettuali che hanno raccontato quella guerra, l'hanno cantata ovviamente in riferimento ad annunzio, il racconto della spedizione per far sventolare il tricolore che si conclude in un modo maldestro con una parte, quelli che ci hanno fatto attraversare il fiume vengono decimati, quelli che sono rimasti dall'altra parte vanno in rotta, ecco questa immagine del Vate che chiama la guerra e poi conclude l'impresa con bigliaccheria nella rabbia è una fotografia, io continuo sempre a battere su questo tema, siamo cambiati, cioè quando uno legge questo libro se vuole trovare un senso di attualità, gli italiani sono ancora così fragili per cui possono essere preda di una teoria, di una paranoia, di un'ossessione, di un comandamento oppure no? Grazie, ma intanto proprio su questo punto sono cofirmatario di un progetto di legge per modificare l'articolo 683 del codice di procedura penale, quello che riguarda la riabilitazione. La vicenda è quella di un pronipote di un alpino, Silvio Ortis, che dal 1988 si sta battendo per riabilitare la figura del nonno, che fu uno dei 750 fucilati dal nostro esercito con una serie di motivazioni, in questo caso credo sia diserzione. E non è vero quindi che il dibattito in confronto i libri servono, io l'ho firmato proprio nei giorni in cui ho iniziato a leggere il libro e il tentativo è di ridare la memoria, l'onore anche a questi episodi incredibili della prima guerra mondiale, cioè di persone che venivano, come è stato letto prima nel primo brano, venivano fucilate perché qualcuno si era rifiutato di uscire all'attacco, ma non venivano puniti quelli che avevano, e non ce n'era ragione comunque, ma venivano messi in una busta dei nomi. Uno dice ma io sono arrivato ieri, come potevo l'altro giorno? Queste sono cose che ha fatto l'esercito italiano, che sono state autorizzate dai comandanti, dai generali. Il libro non è tenero rispetto alla catena di comando e non è tenero quindi anche rispetto alla politica che una volta iniziata la guerra ha detto adesso vedetela voi. E quello che a me convince molto, voi l'avete letto bene, l'identità nazionale, ma la mia chiave di lettura in questo libro così crudo, se fosse un film sarebbe Oliver Stone, un film non indulgente, ma che questa identità nazionale la puoi recuperare soltanto se restituisci l'identità personale, l'identità delle famiglie, l'onore di chi è caduto, degli eroi ma anche degli operai che sono morti a montare una teleferica. Allora se tu cerchi, e forse anche oggi c'è bisogno di questa riconciliazione evidentemente molto meno dolorosa, se tu non ti riconcili con queste singole storie, con questi singoli drammi, non ti riconcili neanche col tuo paese e non riesci a recuperare appunto questo senso che noi chiamiamo così, ridare un'identità, cercare le origini dell'identità dopo il periodo post-risordimentale, quindi in periodo post-risordimentale, se tu non fai un po' giustizia. E io lo leggo come un libro che cerca di rendere giustizia prima agli uomini, alle loro famiglie, alle donne e poi in un secondo tempo a quello che il paese ha cercato di fare nel ridefinire i confini, nel riconquistare Trento e Trieste, anche se oggi viene da sorridere, ma quella era la posta in gioco, rimandare quindi indietro il nemico. E oggi è una missione politica, perci poi, tanti come me, anch'io ho un nonno cavaliere di Vittorio Veneto, a differenza dell'autore c'ho anche una targhetta e una medaglietta, ma credo che molti qui, perché nella Prima Guerra Mondiale furono chiamati oltre 5 milioni di soldati, di persone negli anni che hanno... e quindi se ci furono 5 milioni si può immaginare quale coinvolgimento c'è stato in quasi tutte le famiglie italiane. I morti furono 650 mila, i morti di parte italiana. Quindi è una guerra per certi versi dimenticata, che però è il grande merito, secondo me, dell'autore, è quello di restituircela, ma dal basso, guardando dalla prospettiva di chi cadeva, di chi veniva falciato, di chi in qualche misura è la vittima di un orrore, non possiamo dirlo diversamente, a me è venuto in mente, leggerò, leggendolo ogni tanto, io non sono, diciamo, pacifico, sì, ma diciamo non mi definirei un pacifista, però è un fondo, è un libro contro la guerra e nei giorni noi abbiamo appena beatificato Paolo VI a Roma, il Papa Bresciano, a me è venuto più volte in mente quel famoso discorso che anche questo è stato ricordato, lui parla nell'ottobre del 65 alle Nazioni Unite, vent'anni dopo la fondazione dell'organizzazione internazionale ed è un discorso che andrebbe fatto conoscere bene nelle scuole per la sua forza laica, prima che è religiosa, e fa quel famoso, ci sono tutti ad ascoltarlo, il Presidente dell'Assemblea, Ministro Le Fanfani, lui viene invitato da Utah anche dal segretario generale dell'Azionite, ci sono tutti meno l'Albania che si era appena dichiarata stato ateo, e fa quel famoso discorso che commuove l'Assemblea dicendo mai più la guerra, mai più la guerra, la pace, la pace dovrà guidare le sorti degli uomini e dell'umanità, cito a memoria. E mi è venuto invece nel sentire, nel leggere questa serie incredibile di vicende che Paolo prima ha ricordato, che io non torno a enumerare, proprio questo forte giudizio degli obiettivi politici della conquista territoriale dei confini, ma di fronte al dramma di queste 650 mila persone morte, più invadi, mutilanti, eccetera, è un libro che in qualche misura ci riporta un po' con i piedi per terra e ci fa riflettere su quella che è stata anche la storia dell'umanità, del nostro Paese, degli orrori di questo secolo a cui non certo possiamo guardare con nostalgia, guardiamo con nostalgia rispetto alle vicende delle nostre famiglie, di chi è stato in guerra nella prima, nella seconda, ma c'è questa descrizione di crudezza e quindi alla fine anche di giudizio politico, secondo me di perplessità, lo rifaremmo oggi per Trento e Trieste quello che è stato fatto. E poi la finisco per non essere troppo lungo, consentitemi anche che se l'identità delle persone, delle famiglie, se l'identità nazionale, per noi c'è anche un pezzo di identità provinciale, perché la guerra bianca, la guerra ovvero combattuta sotto i 3 mila metri, aveva come confine il passo del Tonale, al passo del Tonale ci sono, dicono che sono posti, effettivamente se si pensa all'Isonzo, al Carso, agli assalti, quella fu una guerra di posizione, ma al Sacrario del Tonale ci sono 800 uomini che sono stati disapolti a molti civili, anche operai, tecnici, perché andavano a portare il cannone a 3 mila metri. Con un inverno, nel 1917, che è stato tra i più freddi della storia, arrivarono le temperature anche a meno 40. Fu scavata sotto il mandrone quella galleria che la Galibaldi porta alla robbia. Quindi in questo c'è anche un po' di emozione, credo, per i bresciani. Sarebbe bello andare in Valchiamonica a parlarne, dove c'è il museo, voi sapete, della guerra bianca, a Temù, uno è di là a Vermiglio e uno più piccolo, ma verrà inaugurato, penso, quest'anno a Tremorsina, dove ho visto che stanno ultimando. Quindi c'è per noi bresciani anche questa vicenda dal passo del Tonale. Il fronte va lungo 170 km, arrivava in fondo al Garda, ma per noi, certo, quelle sono pagine indelebili, il mandrone, la robbia, il Garibaldi, perché è un po' la storia dei nostri territori, di questo corpo straordinario degli Alpini, del battaglione Edolo. E quindi ecco, grazie due volte, anche come parlamentare bresciano, permettendomi di interpretare un sentimento anche della mia comunità. In questo libro Aldo scrive, e concordo, che il più bel libro, la più bella sintesi letteraria che sia stata prodotta sulla prima guerra mondiale è Un anno sull'alto piano di Emilio Lusso, che se qualcuno mai, fra i più giovani, non l'avesse frequentato deve correre perché è folgorante, antiretorico, anedottico, epico, commovente. Veramente un libro straordinario. Dopodiché è anche molto bello il racconto che Corsini accennava di questi intellettuali, travolti, seduti, affascinati alla guerra. È bella l'immagine che evoca Aldo, quella dei fanti che andavano a cercare gli ex interventisti e gli studentelli affascinati dall'idea della guerra di liberazione e spesso li passavano e li disprezzavano. Però vorrei che passassimo al primo intervento di Aldo leggendo il brano, quello che parte proprio con D'Annunzio, che è il 4, mi pare, ecco perché è il 5, il brano numero 5. D'Annunzio continuò a poetare per Cadorna e per il re lungo tutta la guerra. Due mesi prima di Caporetto ebbe quasi un presagio. Tu tendi la potenza della morte come un arco tra il Vodice e l'Ermada, torci l'isonzo indomito dove guarda la tua vittoria col tuo pugno forte. Giovine sei, rinato dalla terra sitibonda, balzato su dal duro carso col fiore dei tuoi fanti imberbi. Questo che in te si compie anno di guerra, scrolli da te avido del futuro e al domani terribile ti serbi. Non è chiaro se terribile sarebbe stato il domani o lo stesso Cadorna. Di sicuro le cose si stavano mettendo male e dopo la rotta la retorica di D'Annunzio passò di moda. Il Vate dovette inventarsi altre forme di autopromozione, come la beffa di Buccari quando salì con Costanzo Ciano su un sommergibile Mas che violarono la baia croata di Bacar o il volo su Vienna. Gli aerei che sorvolavano la capitale nemica gettarono un volantino scritto di suo pugno, talmente intricato, sul vento di vittoria che si leva dai fiumi della libertà, non siamo venuti se non per la gioia dell'arditezza da risultare intraducibile in tedesco. Ugo Ietti, critico d'arte del Corriere della Sera, in forza al Comando Supremo, dovette scrivere in fretta e furia un secondo volantino per dire ai viennesi in sostanza che l'alleanza con i prussiani li stava portando alla rovina. Forse leggere D'Annunzio con gli occhiali di oggi non aiuta a comprenderlo, ma di sicuro suonano più vive le parole di Giuseppe Ungaretti quando scrive Cessate d'uccidere i morti, non gridate più, non gridate se li volete ancora udire, se sperate di non perire, hanno l'impercettibile sussurro, non fanno più rumore del crescere dell'erba lieta dove non passa l'uomo. O quelle di Carlo Emilio Gadda quando raccomanda un amico che, qualora fosse morto, l'annuncio avrebbe dovuto essere il più semplice possibile, evitare patria, onore, fervida gioventù, fiore di giovinezza, odiato nemico, orgoglioso e commosso, eccetera, eccetera. Sarebbe bastato e caduto in combattimento. Allora Aldo, tante suggestioni, mi pare che tutti abbiamo, restituiamo un'immagine unità di questo libro, ma tutti abbiamo letto cose diverse. La prima domanda che ti faccio, se questo, come nella storiografia, anche nella tua lettura, è stato il poema fondatore dell'Italia moderna, se questo è stato il momento in cui l'industria, come racconti, ha assunto criteri di evoluzione scientifica, se questo è stato il momento in cui è nata la propaganda, mi ricordo sempre per Città e mio nonno, l'amore con cui custodiva le collezioni rilegate della tradotta e i giornali satirici che nascono in trincea sono l'antefatto, forse anche di cuore, della satira moderna. Sono però allo stesso tempo una satira consentita. C'è il momento della follia e poi c'è il momento della rinascita. Caporetto e il piave, come vedi questo? Cosa parla? Cosa dice all'Italia di oggi questo racconto? Sono ancora miti vivi? Sono ancora, come dire, spendibili nel presente? Sono una lezione o sono ancora le radici? In fondo citavate il numero delle vittime, la monumentalistica italiana è ancora essenzialmente esclusivamente monumentalistica della prima guerra mondiale. In tutti i paesi ci sarà, trovate il movimento ai caduti della prima e poi magari la targa giunta per la seconda e poi l'Italia si è fermata lì. Non abbiamo una monumentalistica moderna, salvo qualche eccezione e qualche frammento architettonico. Sì, però dal punto di vista monumentale è un patrimonio molto più ridotto, magari storiografico, magari musei. Allora ti volevo chiedere, mentre scrivevi questo libro ovviamente avevi un occhio all'Italia di oggi, che cosa pensi che sia testimonianza e come lì è reperto e che cosa pensi che sia ancora lezione spendibile nel presente? Grazie. Intanto io vorrei salutarvi e fare ringraziamenti brevi ma sentiti, perché non dobbiamo poi dare sempre le cose per scontate. Quindi intanto io sono molto grato a parlamentari autorevoli che sono venuti qui a confrontarsi sulle mie idee, così come sono grato ad Andrea Albertini e Luca Bassi, che mi pare abbiano interpretato molto bene il parolo del libro, migliorandole. Il libro non è così bello come sembra quando lo leggono Andrea e Luca. Ringrazio Luca Telese, mi fa molto piacere trovarlo qui, perché Luca e io siamo stati molto amici in passato, ci trovavamo sempre sui servizi e così. Poi non è che abbiamo litigato, però a volte la vita o questo mestiere balordo che facciamo ti allontana, ti separa, quindi l'idea che Luca con lo stress e il lavoro terribile che comporta una trasmissione che va tutte le settimane, si è venuto qua a parlare del mio libro, è una cosa che mi fa veramente molto piacere. Ringrazio Luca. E poi io ringrazio Giovanni Battista Groli, sia per il fatto che ogni anno mi invita, sia per il fatto che ogni anno è sempre discreto, non lo si trova. E ringrazio soprattutto voi, perché, ripeto, non dobbiamo dare le cose per scontate, io ogni volta vengo qui e vedo questo luogo, che in qualche modo è ancora sacro per la comunità che lo abita, e vederlo sempre pieno di gente così attenta, così appassionata, è una cosa che mi fa veramente molto piacere e mi emoziona molto, perché capisco da una parte che c'è un interesse per il mio lavoro, è la cosa più bella che ci sia per chi scrive i libri, ma soprattutto che c'è un interesse per i libri, per la vita pubblica, per l'identità nazionale. E questa è una ricchezza molto importante, perché nel momento in cui noi dobbiamo confrontarci con un mondo globale, con gli immigrati, con gli italiani di domani, con un'Europa che, non ricordavamo prima, a volte ci sembra quasi nemica, è molto importante sapere chi siamo, qual è la nostra storia, quali sono i nostri valori, qual è la nostra memoria. E oggi la memoria della Grande Guerra, la memoria diretta, è spenta, perché i fanti non ci sono più. Nel libro racconto l'incontro che ebbe con Carlo Relli, il fanti più anziano, morto a Roma a 110 anni. Oggi tocca a noi tenere viva la memoria di quelle sofferenze. Lo dobbiamo ai nostri nonni, che si batterono nelle trincee, alle nostre nonne che portarono avanti non solo la famiglia, ma il paese, lavorando nei campi, nelle fabbriche. E lo dobbiamo a maggior ragione ai 650 mila fanti che nonni non sono diventati. Io, per rispondere alla tua domanda, Luca, credo che in effetti tu abbia ragione, la Grande Guerra segna veramente l'ingresso dell'Italia, e non soltanto dell'Italia, nella modernità. Tu hai fatto diversi esempi, ne scelgo qualcuno, a cominciare proprio dalle donne. Il 1915, 14-15, segna veramente per l'Italia, per l'Europa, il culmine della modernità, l'elettricità, il motorescopio, le prime automobili, i primi aerei, i piroscafi che vanno velocissimi in America, la comunicazione a distanza, il telegrafo, il telefono. Però sono anche anni di crisi. Non a caso scoppia una guerra disastrosa. Sono anni di crisi perché sono anni in cui vanno in frantumi delle certezze secolari. Sono gli anni in cui si diffonde l'evoluzionismo di Darwin. Sono gli anni della psicanalisi di Freud. Sono gli anni di Kafka. Sono gli anni di Italo Svevo. Non a caso i futuristi esprimono questa paura del superuomo.